Oggi parliamo di ansia in particolar modo di ansia sociale. Un tipo di ansia molto spesso confusa con la timidezza perché ha una dinamica molto simile. Si manifesta infatti un forte timore nell'esporsi in situazioni sociali relativamente nuove come la conoscenza di persone oppure quando ci si trova al centro di attenzione. La differenza tra le due è che nell'ansia sociale la persona arriva a evitare completamente la situazione limitando in questo modo il normale percorso e processo della vita. Si ha paura quando si deve incontrare persone nuove essere guardati mentre si fa qualcosa o per esempio per un ragazzo che va a scuola si ha paura di andare a scuola o addirittura essere chiamato alla cattedra. I segni dell'ansia sociale sono ben riconoscibili. Subentra quindi una preoccupazione eccessiva per giorni o addirittura settimane prima della situazione sociale. In genere diciamo che questa preoccupazione è accompagnata dai tipici sintomi dell'ansia. Per allontanare l'ansia sociale ovviamente è importante intraprendere subito un percorso di psicoterapia che ci permetterà di affrontare e ridurre i pensieri negativi che poi sono la base di questo tipo di ansia. Ci sono però due cose che possiamo fare provare anche da soli ovvero quello di sfidare i pensieri negativi. La prima quindi è identificare qual è il pensiero negativo. Ad esempio se la tua preoccupazione è di affrontare interrogazioni sicuramente il tuo pensiero negativo è quello di essere deriso in qualche modo dai compagni quindi sentirti impreparato. Prova a sfidare questo pensiero sostituendolo con dei pensieri positivi e quindi dei pensieri più realistici.